Musica Avvia sta registrazione Oggi è un giorno importante, sì, oggi è un giorno importante Sono usciti i best of Ci sta il best of team of the week dentro Abbiamo fatto Elite One al momento giusto, boys Un momento migliore di questo non poteva esserci Perché c'è il Sium Nei vacchi E poi ci stanno pure tutti i best of Apriamo i nostri rewards Elite One Allora i pick, ho visto in generale Fanno abbastanza schifo al cazzo Diciamo che Cristiano Ronaldo è introvabile Però nei tre if spero almeno un best of Un piccolo best of dentro i tre if Primo pick, Berardi Oggi è Berardi Simulator, ho notato Classicone Secondo pick, Digne Vabbè, 86, ti dirò, ci posso stare Terzo e ultimo pick Angelo Ogbonna, porca madonna Vai Digne, Berardi, Ogbonna Questi sono i miei pick 200k e due pacchi da tre if Dai, dateci un walkoutino Fateci gioire Rip Diego Carlos Ragazzi, 2500 credit di Diego Carlos Secondo 100k Non è walkout Ma chi cazzo è? Mo' che sbocco! Almeno walkout 1 Ah, regà, 1 su 2 Dammi almeno una gioia sto Elite One Sì, non è possibile Bravo, Zà Bravo, tra i yarda, va Te becchi Diego Perotti, te becchi Grande, Zà Ultimo pacchettino Che problema c'è? Ragazzi, che c'è da dire? Questi erano i rewards dello zanone, boys Scloppone Buonasera Ciao stupendo Buonasera, bello Come stai? Signor Sclopoide Lei questa settimana però mi è tornato a gioire Elite One dello Scloppone Ed è tutto perfettamente bilanciato Vediamo i pick come vanno Sbocco Andiamo secondo Ecco, questo è l'altro Ultimo pick per questo coloso Elite One, ragazzi miei Mamma mia O almeno digne a me me l'ha dato, non me lamento va Top pick per il nostro Scloppone anche questa settimana, ragazzi Germania Esterno sinistro? Ok, vabbè, Sané Costa ancora? Forse per l'SBC è buono Dici, no? Neanche 40.000 così per ide? Cioè è buono per l'SBC Ma hanno lasciato il drop rate di inizio gioco Però con il valore dei giocatori ucciso Questa è per forza walkout Dici? È una matata Mamma mia, ma che pacchi so Oh 100k numero 2 Oh, walkout sta buono? Attenzione Germania Portiere Terstegen Terstegen è buono, dai Almeno walkout Il primo walkout del giorno Sverginati walkout Potevano non essere walkout Quindi va bene Allora, l'IF Ok Se potrebbe sognare poco Germania Oh, Neuer Magari Ma vatta la pianta il culo Ma vatta la pianta il culo I mortacci vostri Oh E manco Zanoyer Madonna Ma se vanno trovare dentro sti pacchi? Secondo Oh Si spera di nuovo Portogallo Ridi Oh No No Fernando È sotto Renato? Renati Arena Ma vatta la fanculo Diego Perotti Deplorevole Grazie Scloppone mio come sempre Barbone Ciao Ciao bellissimo Buonasera Anche tu Elite One E si gode Primo pick Diego Secondo pick Wow Porca troia Frate Siamo una tetta Che te devo dire Oltanto te ci arriviamo Con Berardi? Si Eccolo Eccolo Bam Siamo Zanomantello Mantalos Zanomantalos Che sbocco 200k a 2 team of the week Primo 100k Vai Non walk out Questo Ottimo Godin 85 Bono 100k numero 2 Non walk out Reno Thomas Mamma mia Tocca fare 200k Mo per Van Der Sar Cioè io 2 if Comunque 2 non walk out De naso Ci vado questo Ok Il naso ha portato bene Dacci Francia Che ci fa un po' godere No C'è un dio Carrasco Ok Renatino Mantalos Ancora Quanto costa Carrasco? Si una quarantina Ultimo pacchettino Ah c'era pure Lukaku E' vero Lukaku mi sa che costa Un po' de meno Pure E' olè Perfetto Te ringrazio Barbò Zano Stinks Signor Daniel Eh no E anche oggi sono Daniel Fado Mike grazie 23 Bello Davide grazie di no Mamma mia Tu sei rincoglionito Sei Ormai niente Ormai c'è la cosa Che tu devi sta zitto E poi niente E poi il jump scare Allora Picchettini di Elite Per ora il miglior pick Trovato in 3 Elite 1 E' stato il mio Digno 86 Vai col primo Allora va Ah Fernando Trova quello che vuoi Ok Vabbè oh Nice Sium No Matetta Negli if Se sbanca Carino Un walk out Niente Frate Un'angoscia Clamorosa Sarà walk out Olè Manco questo walk out Dai frate Oh Ma non sei possibile così Oh Ma i pacchi Questi qua Ma devono far uscire davvero i pacchi più grossi Beh oh No Non me dia No figurati Frate 3k Devi su Ma che mondo è Devi farmi un pacco con il rapper Onzolo Damogli un occhio Eh vabbè È fasto però dai Ma veramente Ancora Zalom Frate Frate Non funziona niente È colpa di Enzo Ah regà Macumba finale Da Questa è la macumba finale È colpa sua Se scarta subito Onzonzi E se punta a sto pacchetto Premio in Team of the Week È uno di quei momenti Potrebbe essere uno di quei momenti Potrebbe Beh Porco Demonio Ci avevo sperato Non funziona manco così Au Big Rom Vabbè mazza il pacchettino però Dai oh Mamma mia Vabbè 80k di pacco Vabbè Oh considera Sto pacco in realtà è una hit Però Ma che settimana di merda Ma faccio 23 la prossima settimana Te lo giuro Grazie a te No Un bacino bello mio C'è il signor Dani Signor Daniele Pitbull Buonasera Buonasera Signor Daniele Pitbull Ti hai fatto sta settimana tu? 29 150esimo al mondo Potevo fare di nuovo Back to back to back Quindi Ho perso la 28esima Orca Padroia Cioè Allora dimmi un po' Qual è C'è un obiettivo minimo Che ti sei posto Il minimo Riprendere Eusebio Perché l'ho venduto E ho preso Il minimo E quanti soldi ci mancano Eusebio? 3 milioni Il cazzo fa 3 milioni Però mamma mia C'è veramente una pressure Glamorosa addosso Frate Mi fan bene Almeno che siamo Workout Almeno speriamo Col nasone Zanò col nasone Col nasone Vai Vai De naso Allora Tra fa già il numero Del 118 Walkout Walkout Germania Portiere Noia Manco Noia Almeno Renato E Valverde Mamma mia Cos'è questo aborto? Neanche un best of qua Mancano solo 2 milioni e 9 Mancano Walkout è walkout Almeno qui ci stiamo Ok Rushford Cazzo è? Ma chi è? Walker? Oddio Sì 600 600 mi sa Costa 600? 500? 500 Ma è mezzo Oh 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 Dai Siamo rinati Siamo rinati Un po' di respiro Carrascone Vabbè dai già questo è un pacco abbastanza Più pulito Dai Saranno un 700 mila crediti Ma in mo' servirebbe la bomba Beh Vedere quanto sta per i te 380 Ok ok Servirebbe la bomba Regà Voglio quella cazzo De sculata Mandala Dai Ci ha dato 286 per ora Saliamo un po' di rating Ok Calma Oh Belly and error L'avevo chiamato Mamma mia Dice un po' a me Pensavo peggio Sincero Allora lui sta Lui sta a 380 385 Un bel renatino sotto Mazzo 86 massimo Un bel renato sotto Mamma mia Ci sta ci sta 200k lui 400 Sono altri 600 Abbiamo fatto quanto in totale Un milioncino e mezzo Un milione e mezzo Mamma mia Che sudato Pensavo peggio Di giù Ti ringrazio Dani Mamma mia Che contenuto che mi fai Delusso Un bacione Dani Grazie Un abbraccio Ciao frate E se voleva dire Responsabilità Allora Il signor Bambasten Quarto al mondo 5 pick Carrasco Fernando Vai Carrasco Secondo pick Angelo Gbonna Immagino Vai Angelo Terzo pick Zano Mantalos Quarto pick Mio dio Che sbocco Quinto e ultimo pick Quarto al mondo Carrasco Come best pick Cioè poi sta 025 Assegnata a Roma Lo sto vedendo su diretta Un walkout Chi ce sta? Vabbè Robertson Purenzon si Scarta questi Quattro pacchi da 100k Un pacchetto di ultimate team of the week Speriamo almeno due walkout Questo non è un walkout Ovviamente Germania Sulle 100k numero due Un bel walkoutino per farci godere Ok Base Francia Portiere Iori Vabbè Almeno è un walkout Manca un walkout da quelli che ho chiesto Due su quattro ne ho chiesti Ne manca uno Yay Brutto questo eh Sto pacco brutto eh Ultimo 100k Un walkout su quattro Oggi il drop rate è peggio degli altri settimane Undici Tocca pregà Almeno uno dei best off Vai Ok 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 Va bene Va bene Va bene Si è aggiustato Ci hanno betato con la merda Però sotto c'era il ciotto Super stonks Grazie mille Quando vuoi Sai dove trovarmi C'è il signor flocox Che va aperto Quanto hai fatto 118esimo G G G G G Con quattro golosi pick E un Cristiano Ronaldo Qui in atteso Almeno un Alland Trastate Se comincia bene Leno è la prima volta Che esce pick Leno Cristiano No Diego Perotti Terzo pick Digne Ok Ultimo pick Fernando A rating Ci potremmo pure sta Vi faccio vedere la squadra Dato che se no mi Massacrate Noi l'abbiamo anche Beccato il ragazzo L'abbiamo anche beccato E ci ha fatto Un bucio De culo Così ci ha fatto Ma poi insulto Boom Alla fine Fai E più quando lo trovo È comunque 90 Secondo 100k Non è walkout Terzo 100k Walkout Ok Base Germania CC Tony Cross Ok Oh finché da walkout Guarda oggi Sono contento Pacchettino Ultimate Michael Brutto il 125 Mamma mia Pacchetto premium Ultimate Team of the week Non lo guardo No 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 Questo qua è uno di quelli Che non lo guardo Questo Senza vedere la bandiera E si vede Stats per stats 83 di passaggio 80 di velocità E 81 di dribbling Ma chi cazzo è? Mamma mia Flock E quel pacco Ti ringrazio Che sbocco Ragazzi Vai Tony 30-0 94-simo al mondo Un altro po' Manco che il 30-100 Con 30-0 Primo pick Vai Angelo Bonna Porta bene Per tutto il game Fidate Cristian Stai qua Qua c'è Digne Vabbè Un Haaland per ide Hoiberg Ok Ferrera Carrasco Ultimo pick Carrasco è Digne Già trovati Oscar Plano Vai 100k numero 1 No walkout Next Secondo 100k Non è walkout 100k numero 3 E ultimo 100k Dei rewards Della weekend league Walkout If Vabbè buono È buono Sono 200k Regà Non si stanno a lamentare Cioè davvero Pacchetto ultimate Vai No walkout Non lo voglio vedere ancora Non lo voglio vedere Vado a tenato E non lo voglio vedere E prego Basta germanian Ce la faccio più Basta portiere E basta leno Se ci ho preso a tutte e tre Impazzisco Te prego Basta Basta portiere germania 92 De rinvio Che è Neuer Però questo Ok Ho detto basta leno Però Neuer Lo accetto In teoria sta a 150 Ce posta Bayed Renato Annaccia Annaccia la puttana Neanche uno Neanche Renato Neanche un Renato Per farci sorridere E niente Staviamo under culo Nice Grazie mille per i paquetini Bello mio Poteva andare sicuramente meglio Chiudiamo Il video con Arber Ammazza Che squadretta I Rewards Se li è già struncati Ha fatto pure bene Ha fatto Treif 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 Undicif Undicif Oh Walkout il 35 Brasi là a sinistra Per i te A T Bobby Firmino Bobby E Bobby Walkout Nice Inghilterra ATT Vardi Ero convinto fosse L'Uragano Perotti Milinkovic Ciao Zao Vabbè è un pacco umano comunque Porco demonio ragazzi miei Vai con i primi da tre Vamos Primo pacco da Treif Non è Walkout Renato Portogallo Argentina Diego Perotti Next Treif Numero Due Non è Walkout Next Hoiberg Mateta Melia Questo è Walkout Lo so Lo so per certo Wow Che sbocco Per ora tre pacchi da Treif Zero Walkout Esci rientra che si è buggato lo store No mi sono caduto le Wolfie Let's go Marcus nel Treif Settecento sta Marcus E si gode subito Settecento K Butta sua Dai Vai Arberone che stessimo scaldati Ultimo da Tre Non è Walkout Questo è sbocco Ora ci sono gli undici Primo Pacchetto da undici if Questo lo guardo No No Ierte prego Ok Speriamo bene Vabbè C'è Renato Mezzo milioncino Ultimo E questo non lo guardo Basta portieri Chi è? Ottanta di passaggio Bejeder Vero? È il signor Bejeder Sotto un po' a me Però vi posso dire Abbiamo fatto bei soldi C'è da dire eh Due milioni sono stati eseguiti Holy shit Che contenuto raga Me coglioni Raga il signor Poblo Ci ha abituato bene Per settimane e settimane Faceva sempre Elite Questa settimana Il signor Poblo Ha tirato dritto Oro 2 Vediamo il primo Oro 2 Vabbè non vedo cambiamenti Per ora Mister Poblo In confronto a quello Che abbiamo già visto Finora Che dire Poblo Ah Poblo Batta la pianda il culo Sotto un po' a me Alle